Diletta Leotta su Instagram con Karius, non si nascondono più. Diletta Leotta e Loris Karius non hanno più nessuna voglia di nascondersi, dopo essere stati paparazzati durante la loro vacanza a Miami. I due hanno deciso di uscire allo scoperto. Su Instagram infatti la conduttrice di Dazna ha pubblicato uno scatto proprio in compagnia del portiere del Newcastle, è la prima foto apparsa su Instagram della coppia. Chi sancisce di fatto l'inizio di un nuovo amore? Diletta Leotta e Loris Karius, la prima foto insieme su Instagram era solo questione di tempo e alla fine la conferma è arrivata, Diletta Leotta ha pubblicato la prima foto ufficiale in compagnia di Loris Karius sul suo profilo Instagram. Del resto gli appassionati di gossip non aspettavano altro, solo qualche giorno fa la coppia era stata paparazzata dal settimanale Kia Miami, dove la conduttrice e il calciatore hanno trascorso una romantica vacanza lontano da tutti e tutto. Una vera e propria fuga d'amore quella documentata dal giornale di Alfonso Signorini, la Leotta e Karius sono stati immortalati in atteggiamenti decisamente intimi. Tra coccole e passeggiate mano nella mano. Adesso, a conferma di quella che sembra una frequentazione ormai ben avviata. E' arrivato uno scatto pubblicato tra le storie di Instagram di Diletta. La bella conduttrice ha documentato la sua domenica di relax. E così tra le foto di una passeggiata in bicicletta e brevi filmati della sua gita fuori porta ha fatto Capolino un selfie insieme al portiere. Con tanto di tag. Nella foto i due appaiono felici e sorridenti, lei in primo piano. Mentre il calciatore con le mani è intento a fare il gesto di vittoria. Poi un giro per i mercatini natalizi. Prontamente documentato sui social. Diletta Leotta e Loris Karius, l'amore è nell'aria. Non possiamo, ancora, sapere se quello tra Diletta Leotta e Loris Karius è già amore. Ma di certo la conduttrice è riuscita a ritrovare il sorriso al fianco del bel portiere tedesco. A battere tutti sul tempo era stato il settimanale gente, che aveva scoperto il flir tra la conduttrice e il calciatore. Tutto sarebbe iniziato alla fine dell'estate sui social. Dove i due avrebbero iniziato a seguirsi. Poi sono arrivate le prime foto insieme sui giornali di gossip. Il settimanale chi aveva pizzicato Karius a Milano in procinto di incontrarsi con la conduttrice di Dazn. E volato a casa sua da Londra, si leggeva sulla rivista di gossip a corredo delle foto che mostravano l'ingresso del calciatore a casa della Leotta. Persino il sum li ha beccati in giro per Milano mano nella mano, del resto non stupisce l'attenzione dei fotografi verso la coppia. Visto che Lori Skarius è considerato uno dei calciatori più sexy del mondo. Nel frattempo gli obiettivi dei paparazzi sono arrivati fino a Miami. Dove i due si sono concessi qualche giorno di relax, complici la pausa dal lavoro di entrambi, lui non è stato convocato dalla sua nazionale. Lei ferma per lo stop del campionato. Per Diletta è ormai definitivamente archiviata la relazione con Giacomo Cavalli, a San Cirlo il primo selfie della conduttrice con il suo bel calciatore. Dove loro sorrisi valgono più di mille parole.